Benvenuto in questo virtual tour, io sono Angelo Camilleri Aldis, mister affittibrianza e ti porto in visita in un appartamento trilocale non arredato, disposto su due livelli e dotato di posto auto, adesio in pieno centro. All'esterno troviamo il posto auto incluso e le scale di accesso al primo piano dove troviamo un ballatoio in comune con l'appartamento accanto, ingresso su ampia cucina abitabile con scale di accesso al piano superiore. Disimpegno centrale che conduce al bagno con ventola di aspirazione e dotato di vasca, sanitari e impostazione rovatrice. Luminoso soggiorno con uscita su un balcone con vista esterna all'edificio. attraverso le scale abbiamo accesso al piano superiore dove troviamo un disimpegno che conduce alla cameretta manzardata con travia vista in legno e dotata di balcone con ripostiglio dove troviamo all'interno la caldaia. Camera da letto matrimoniale con bagno privato dotato di doccia e balconcino riservato. Per tutti i dettagli su questo immobile visita il sito desio.soloaffitti.it. Per la cultura dell'affitto visita il blog mraffittibrianza.com Solo Affitti, affittare con sicurezza.